Una vasta operazione antimafia condotta dalla polizia e dai carabinieri ha portato questa mattina all'esecuzione di 18 ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di altrettanti indagati per associazione mafiosa omicidi e tentati omicidi aggravati dal metodo mafioso. L'ordinanza emessa dal GIP di Lecce su richiesta della direzione distrettuale antimafia è stata eseguita congiuntamente dagli agenti della squadra mobile di Brindisi, dal commissariato di Mesagne e dai ROS del comando provinciale del capoluogo messapico. Le indagini avviate nel 2012 ed incentrate sui clan dominanti della frangia brindisina della Sacra Corona Unita hanno consentito di ricostruire i moventi, gli autori e i mandanti di quattro omicidi e sei tentati omicidi avvenuti tra il 1997 ed il 2010 per contrasti nell'ambito dell'organizzazione mafiosa di appartenenza. Gli inquirenti ritengono di aver ricostruito più di un decennio di fatti di sangue scaturiti da lotte e contrapposizioni all'interno della Sacra Corona Unita attraverso dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia ed in particolare dal contributo fornito dal pentito Ercole Penna. I provvedimenti restrittivi riguardano capi clan e affiliati alla SCU accusati a vario titolo di associazione per delinquere di tipo mafioso. Tra gli arrestati figura Francesco Campana di Mesagne, ritenuto uno degli elementi di spicco della criminalità organizzata e il suo braccio destro Ronzino Denitto, entrambi arrestati tra il 2011 e il 2012 dopo un periodo di latitanza.